Amici miei, questa settimana affrontiamo il discorso della produttività un attimino a 360 gradi e se nel precedente video abbiamo parlato di produttività con notebook, macbook o comunque con pc tramite un gadget se avete perso il video recuperatelo perché secondo me è super interessante e dovreste assolutamente prenderlo in considerazione oggi ci concentriamo su un prodotto o comunque su una macchina che effettivamente è sempre con noi ce l'abbiamo sempre in tasca, l'avete letto dal titolo, oggi parliamo di produttività con smartphone e vi voglio parlare di un po' di consigli, comunque vi voglio dare un po' di consigli e voglio affrontare di nuovo questo argomento per aggiornarvi un po' su quelli che sono stati i cambiamenti che ho apportato sul mio dispositivo anche perché ultimamente è un po' sottovalutato e in generale un attimino portato, comunque me sono dimenticato io questo discorso di produttività con smartphone un qualcosa che potrebbe essere effettivamente sottovalutato come ho fatto io ma che in generale visto che appunto come detto in precedenza ce l'abbiamo sempre con noi, sempre in tasca e la maggior parte del tempo lo perdiamo qui è giusto comunque tenerlo in considerazione e apportare magari qualche modifica e capire come sfruttare al meglio questo dispositivo potente ma che nasconde un po' di distrazioni come ben sapete ma ovviamente per altri video del genere sapete bene cosa fare detto questo iniziamo e partiamo dal consiglio primario, comunque dal consiglio che vi do sempre o meglio eliminate le distrazioni, eliminate le app che non vi servono non mi voglio perdere in troppe ghiacchie ma sappiate che ultimamente l'ho fatto di nuovo anche io perché sto provando diverse applicazioni, diversi giochi per Gio99 perché dovevo realizzare diverse top app, giochi e volevo darvi un po' di consigli perché mi capitavano delle pubblicità interessanti, vedevo dei video interessanti quindi volevo un attimino approfondire il discorso ma nel momento in cui non le utilizzo, nel momento in cui non le utilizzate il mio consiglio è cancellarle anche perché potete anche magari in futuro riscaricarle se vi servono ma se non utilizzate per un certo periodo di tempo un'applicazione eliminatela se non utilizzate per una settimana eliminatela, andate sempre a ridurre il numero di applicazioni sia per rendere un pochettino il vostro smartphone più minimal, cosa che magari non potrebbe piacere a tutti ma in generale per rendere il vostro smartphone privo di distrazioni inutili come giochi, applicazioni un pochettino così passatempo eccetera eccetera, io l'ho fatto e devo dire che è veramente qualcosa che vi salva un pochettino la vita vi permette di eliminare quelle distrazioni che nel quotidiano potrebbero diciamo farvi perdere quelle mezz'orette quei minuti in più che magari potreste utilizzare per concentrarvi su altri progetti, altre cose o magari uscire che ne so, vedete un po' voi. Detto questo è qualcosa che vi consiglio e se non sapete come fare potete non solo utilizzare magari qualche impostazione del vostro smartphone ma nel caso di Android il mio consiglio è di scaricare Google Files, un'applicazione che proprio vi permette di capire in due secondi quali sono le applicazioni che utilizzate di più e quali invece quelle che utilizzate di meno c'è proprio una sezione dove vi dice queste sono le app che non utilizzi, le vuoi disinstallare e vi permette quindi di liberare memoria e questo è un altro punto a favore quindi avere più memoria sul vostro dispositivo, quindi avere anche più possibilità di inserire file gestire file, foto e video, poi dipende un po' dal lavoro e da quello che poi ci fate con il dispositivo Detto questo un'altra cosa molto importante è avere ordine nelle varie schermate se avete un iPhone io vi consiglio di ridurre il numero delle schermate il più possibile ne avete due, tre, quattro, cercate di portarle ad uno perché vi permette di avere sempre quello che utilizzate di più sotto mano e riuscite ad arrivare appunto alle app in due secondi io per esempio ho creato un home screen o comunque un home principale con all'interno le app che utilizzo e un po' di widget in generale per quanto riguarda i widget ho inserito il calendario perché ultimamente lo sto utilizzando molto parleremo del mio workflow prossimamente quindi attivate la campanellina things dovrebbe chiamarsi così che è l'app che sto utilizzando ultimamente per i task l'ho scaricata per provarla e poi mi sono affezionato capirete anche di questo in un altro video ma vi consiglio comunque in generale sempre anche minimalist gratuita e non comprate questa perché costa un fracco di soldi affronteremo il discorso in un altro video e poi Spotify perché quando magari edito video, foto, no video no però foto sì e magari quando scrivo un po' di articoli mi piace ammettere un po' di musica in generale jazz parliamo di produttività e musica in un altro video lo so, spoiler di spoiler di spoiler però capirete negli altri video e quindi ho inserito questi tre widget sono tornato in un certo senso a una configurazione un po' che utilizzavo effettivamente un po' di tempo fa ma è super super comoda quindi una schermata semplice e che mi permette in generale di avere sempre tutto sotto mano poi se ho bisogno di altro mi basta fare uno swipe andare nel menu delle app oppure basta fare un altro swipe e andare nei widget vi parlerò di un'altra chicca a breve che vi consiglio di fare questo potete farlo ovviamente anche con Android esistono 150 di video sulla personalizzazione con Android anche sul mio canale vi lascio cosa di minima, cosa di produttivo qui sotto in descrizione quindi se volete potete approfittarne potete comunque dare un'occhiata ma sappiate che lato Android potete veramente sbizzarrirvi e fare veramente qualsiasi cosa magari affronteremo il discorso su Gio99 se vi va detto questo sappiate che potete farlo non focalizzatevi sul fatto che io ho un iPhone e voi un Android voi avete un Samsung, non lo so potete farlo tranquillamente basta gestire al meglio le cose gestire al meglio gli spazi e gestire al meglio le app sempre perché avere ordine è meglio comunque portare questo discorso sull'ordine è meglio del disordine perché riuscite ad arrivare al tutto in due secondi detto questo andiamo avanti e un'altra cosa che vi consiglio di fare purtroppo questa volta solo con iOS ed è una modifica che ragazzi mi sta veramente salvando la vita in generale mi permette anche di essere più produttivo perché mi risparmia un attimino di giochetti con le app è la creazione di comandi vi consiglio di creare dei comandi avevo un po' sottovalutato questa funzione di Apple o comunque di iOS o comunque in generale avevo sottovalutato l'app comandi ultimamente l'ho riscoperta perché stavo cercando comunque studiando un po' di trucchi per iPhone da mostrarvi poi su Instagram o comunque anche su YouTube ma proprio nel mentre andavo poi a studiare questa applicazione nel mentre cercavo di capire qualcosina, qualche trucco, qualche consiglio da poi condividervi ho capito che effettivamente con questa app si possono fare un sacco di cose belle e in generale, o comunque quello che vi consiglio di fare è creare degli scripting o comunque delle sequenze di app o comunque quello di preparare dei comandi che vi permettono di aprire più applicazioni contemporaneamente voi vi domanderete e a che può servire questa cosa? beh, pensateci quando dovete, che ne so, organizzare le vostre entrate e uscite, ok? che cosa utilizzate? io per esempio utilizzo la calcolatrice e Notion nel momento in cui devo fare una cosa del genere cosa faccio? apro Notion, mi do un'occhiata poi vado nella calcolatrice e faccio il calcolo ritorno in Notion e scrivo l'entrata uscita, quel che sia, ok? in questo caso dovrei, nel momento in cui appunto devo effettuare questa cosa aprire Notion, uscire, aprire la calcolatrice o comunque cercare l'app calcolatrice perché non ce l'ho nella schermata aprirla e poi ripassare di nuovo di là invece con il comando le apro tutte e due contemporaneamente e questo passaggio mi è praticamente eliminato e quindi devo semplicemente switchare dall'app all'altra per gestire il tutto a meglio stessa cosa vale per la lettura dei libri io utilizzo sia l'app libri di Apple che Kindle e a volte le utilizzo magari in alternanza comunque non so mai cosa leggere, ok? e quindi magari le apro tutte e due per poi capire io tappo qui, libri, si aprono tutte e due decido quello che devo fare e lo faccio foto, per esempio, quando edito le mie foto apro prima l'app Galleria le trasferisco su Lightroom da Lightroom poi attivo un po' di musica e quindi mi rilasso magari sul divano, sulla poltrona e metto a digitare un po' le foto a volte lo faccio sì anche da smartphone ma spesso lo faccio di più con il Mac o comunque con l'iPad, scusatemi ma anche lì ho creato dei comandi e in questo caso che cosa faccio? tappo su foto e mi si apre automaticamente prima Spotify poi l'app Galleria e poi Lightroom e quindi ho tutto quello che appunto tutte le app che mi servono già belle che pronte e per essere appunto utilizzate e per lavorare e per procedere appunto con tutto quello che effettivamente devo fare un'altra cosa che vi consiglio poi di fare come altro piccolo diciamo consiglio è quello di aggiungere un widget un gadget comunque di tenere sotto controllo appunto lo stato utilizzo comunque l'utilizzo dello smartphone in modo da capire dove perdete più tempo per esempio con appunto questo widget io riesco a capire quanto tempo ho perso su Google quanto su YouTube quando su Instagram quanto su Twitch ed è una cosa di molto utile perché mi permette di capire come gestire al meglio il mio tempo stessa cosa un altro consiglio è quello di utilizzare ambito produttività applicazioni che vi permettono di non utilizzare l'iPhone o comunque il vostro smartphone e sotto questo punto di vista continuo a consigliarvi per esempio Minimalist ve ne ho già parlato c'è anche un video dedicato Minimalist è un'app perfetta per creare dei task per organizzare al meglio la vostra giornata ma vi permette anche di creare dei piccoli timer dei piccoli cronometri quello che sia che vi permette appunto di diciamo impostare un determinato arco di tempo nel quale dovete effettuare il task dovete effettuare il lavoro concentrarvi su quello che effettivamente dovete fare quindi sul vostro progetto obiettivo che sia e non utilizzare l'iPhone e l'app vi permette proprio di fare questo o meglio nel momento in cui prendete lo smartphone e lo sbloccate l'app vi dice proprio sei sicuro? vuoi proprio togliere o comunque vuoi proprio finire di portare a termine questo task o comunque vi dà quella notifica che vi dice guarda che se chiudi tu hai diciamo stai infrangendo una regola in generale non mi usciva ragazzi però in generale vi fa sentire un po' più in colpa ed è importante perché nel momento in cui vi sentite in colpa o comunque nel momento in cui andate a leggere quella notifica dite ok aspetta un attimo vado un attimo a finire e poi dopo torno ed è qualcosa di molto comodo e che può essere particolarmente utile anche nel caso in cui dovete studiare e volete utilizzare il metodo pomodoro detto questo io vi ho aggiornato un pochettino sulla mia situazione produttiva con smartphone fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere voi come utilizzate lo smartphone per essere più produttivi io vi ho dato i consigli o comunque vi ho dato un po' di consigli un po' di dritte mi sono fatto questa piccola ghecchierata per farvi capire effettivamente cosa io utilizzo sul mio smartphone come lo utilizzo quali sono le modifiche che ultimamente ho apportato fatemi sapere poi qui sotto nei commenti cosa vi piacerebbe sapere quali sono le cose che vorreste vedere e nulla video molto leggero secondo me detto questo ci vediamo un bacione e abbraccio da Gio è tutto da Giovanni è tutto buona giornata e mi raccomando basta mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ciao